Ogni generazione deve riscoprire e riappropriarsi dell'esperienza positiva e negativa fatta dalle generazioni precedenti, non soltanto per evitare gli errori, ma soprattutto per essere più consapevoli della realtà che loro vivono ogni giorno. 18 pannelli didattico-illustrativi che attraverso fotografie, documenti e stampe fanno rivivere i volti e i luoghi della Grande Guerra. Ha fatto tappa anche ad Arezzo la mostra itinerante promossa dall'esercito italiano ed inserita nel programma di eventi commemorativi del centenario della Prima Guerra Mondiale. In pochi stand, in pochi manifesti intelligentemente organizzati possono avere la possibilità di farsi un'idea della Prima Guerra Mondiale senza il bisogno di leggere tomi di 1600-700 pagine. Però attenzione, ma non è sufficiente soltanto guardare a questi stand, è indispensabile incuriosirsi e andare a cercare ognuno per se stesso. La mostra storico-documentale sarà ospitata fino al prossimo 19 ottobre nell'atrio del Palazzo del Governo Aretino, presenti al taglio del nastro le principali autorità cittadine assieme ad alcuni studenti aretini. È stata una bella mattinata, devo dire, soprattutto per la presenza di questi ragazzi che si sono mostrati. Io li ho visti dalla postazione dove stavo parlando, li ho visti che erano, spero, abbastanza interessati. E questa è una cosa soprattutto importante perché loro sono quelli che devono ricordare. Io ho detto che devono leggere la storia perché vanno ricordate queste vicende. Grazie.